Facciamo il bagno? Ma ci sono le meduse! Io ho un respingo jellyfish! Respingo jellyfish è una risposta al problema meduse perché ti protegge dalle sue tossine urticanti. Vedi, lo spalmi prima di entrare in acqua e crea una barriera protettiva sulla pelle. Tuffati subito in farmacia e nuota sereno nel mare con tutta la famiglia. C'è il respingo jellyfish, un'antimedusa. Ciao, ciao, meduse! È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze Outmin Sun.